Quindi con quello la qualificazione. Grassoper Stella Rossa, all'andata gli svizzeri avevano fatto resistenza bene alla Stella Rossa riuscendo a ottenere un pareggio per 1-1 sul campo di Belgrado. Ma qui invece la formazione in maglia bianco-rossa è andata in vantaggio con Pancic già al dodicesimo minuto del primo tempo e rivediamo il bel gol del centravanti della nazionale Jugoslava. La formazione Jugoslava appunto dilagava sul campo di Zurigo battendo le cavallette per 1 sul campo di Belgrado. Ma qui invece la formazione in maglia bianco-rossa è andata in vantaggio con Pancic già al dodicesimo minuto del primo tempo e rivediamo il bel gol del centravanti della nazionale Jugoslava. La formazione Jugoslava appunto dilagava sul campo di Zurigo battendo le cavallette per 4-1. Il secondo gol, Prosineschi, sul calcio di rigore già al terzo minuto della ripresa. Al quattordicesimo, splendido minuti più tardi, la formazione Jugoslava porta a tre le segnature con un raso a terra di Savicevic che beffa il portiere elvetico. Il tiro da lontano di Savicevic lo stiamo appunto apprezzando da un'angolazione insolita al gran tiro di Savicevic. Al diciassettesimo accorcia le distanze Kötzel dopo una prima rispinta, 3-1. La goleada della Stella Rossa, che aveva pareggiato in casa 1-1, si completa con un altro rigore, il terzo di Prosineschi a un minuto dallo scadere, 4-1.